Cominciamo con un aggiornamento sui funghi. Proprio questa mattina ho fatto un passo a chiavari al mercato e in effetti, bisogna riconoscere, ho visto dei cartellini giusti a norma di legge, ovvero sia provenienza, qualità, prezzo. Ho detto, ecco, una volta tanto, insomma, che qualcosa si riesce a risolvere. Poi ho lasciato il mercato, ho fatto il caruggio, ho invocato via Vittorio Veneto, mi sono di nuovo cadute le braccia. Un negozio esponeva dei funghi con il seguente cartellino. Funghi. Basta. Pensate un po', quando la legge, ricordiamola ancora una volta, dice che bisogna mettere la provenienza, la qualità e il prezzo, e lì che cosa c'era scritto? Funghi. Finito lì. Ecco. Sarebbe il caso, magari, che i vigili, così come sono intervenuti, ho letto sul secolo, al mercato, già che ci sono, facessero anche un giro, un po' anche qualche altro negozio. Perché mettere un cartellino con scritto funghi sui funghi sembra più un cartellino da scuola per insegnare ai bambini che sono funghi, ma non per vendere, anche perché la legge è la legge.